Buonasera amici di Rossini TV, bentornati su Amministrando, eccoci qui per farvi conoscere un nuovo sindaco eletto nel territorio in questo viaggio che faremo nella provincia di Pesaro Rubino, stasera abbiamo con noi Mari Laggero Lomoni, sindaco di Gabice Mare. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli amici di Rossini TV. Allora, io la chiamerei sindaca, anche se in questi giorni il DDL potente insomma sta dicendo che sindaca e assessora sono da abolire, che cosa significa questo? Io ho proprio rilasciato ieri un'intervista dedicata a questo tema e penso che sia un grandissimo passo indietro nel rispetto della figura femminile, in particolare ovviamente nel mondo delle istituzioni, della politica, quindi mi auguro che questa proposta legislativa venga in qualche modo cassata o ci sia un dietro fronte perché sarebbe un insulto nei confronti di quelle che sono state le grandi battaglie in favore delle pari opportunità avute in tutti questi anni. Bene, andiamo allora a conoscere un po' il territorio e lo facciamo insomma partendo dalle elezioni che l'hanno vista vincere. Per una manciata di voti qual è il dato politico e che cosa ha significato questo? Sì, allora i voti di differenza sono stati veramente pochi anche se rispetto a, dopo un'analisi ovviamente che abbiamo fatto anche sul nostro territorio riguardando i voti di 5 anni fa e di 10 anni fa insomma per avere un dato il più aggiornato possibile di confronto abbiamo visto che è calato notevolmente il numero dei votanti, quindi questo è uno dei veri dati secondo me da attenzionare. C'è stato un po' un calo a livello nazionale, in particolare a Gabice rispetto a 5 anni fa hanno votato circa 400 persone in meno e quelle che hanno votato ovviamente hanno espresso questo voto quasi alla pari, una manciata di voti che per oggi mi permette, mi dà questo dovere, questo incarico importante ovviamente di governare, di amministrare la mia meravigliosa Gabice Mare perché io sono nata e cresciuta a Gabice Mare e qualche giorno dopo le elezioni una persona che proprio ha dichiarato di non avermi votato mi ha detto non ti ho votato ma sono contenta che dopo tanto tempo abbiamo una sindaca di Gabice Mare, quindi saluto i due sindaci ovviamente che mi hanno preceduto che sono Domenico Pascuzzi che è stato il mio grande sindaco io ho amministrato insieme a lui negli ultimi dieci anni quindi avevo questa importante esperienza amministrativa da mettere in campo che sto mettendo in campo in questi giorni già la guida ovviamente del mio comune e anche Corrado Curti il sindaco che aveva preceduto ovviamente prima di Domenico che sono stati dei sindaci che hanno fatto la storia perché dieci anni uno, dieci anni e l'altro però entrambi non erano proprio originari di Gabice quindi questa idea di essere insomma proprio gabiccese, di conoscere quelle che sono le idee, la storia di Gabice Mare, gli aspetti che... Ecco quali sono allora gli obiettivi? Gli obiettivi di mandato? Gli obiettivi di mandato sicuramente abbiamo diversi progetti e andremo a lavorare su tutti i fronti e in primis l'avevo detto anche durante la campagna elettorale e l'obiettivo principale è quello di intervenire con la sistemazione delle scuole in particolare abbiamo questo progetto molto importante che riguarda la costruzione di una nuova scuola, un nuovo polo scolastico elementare in una zona che in questo momento risulta abbandonata all'occhio del cittadino perché è un cantiere segnato insomma da questa opera un po' incompiuta quindi è un cantiere che ha avuto un'importante storia da oltre vent'anni di vicende giudiziali quindi una lunga storia dove finalmente oggi siamo ritornati ovviamente ad avere la disponibilità dell'area dopo tutta questa serie di contenziosi e su cui vorremmo andare a realizzare questo nuovo polo scolastico elementare. Nel contempo ovviamente tutto quello che riguarderà il mondo scolastico e il nostro insomma comunale avrà un'attenzione particolare e con la speranza anche di portare a casa degli ulteriori finanziamenti. Abbiamo presentato i progetti di rifacimento anche delle scuole medie e siamo in graduatoria quindi vediamo che ogni tanto insomma ci sono questo slittamento quindi siamo pronti a mettere le mani sicuramente in quelle che sono il mondo scolastico proprio per garantire il nostro domani. Oggi noi abbiamo il dovere di non pensare a quello che succederà oggi a Gabizio Mare noi abbiamo noi amministratori ognuno dovrà farlo poi ovviamente nel suo territorio di rappresentanza abbiamo il dovere di di pensare a come vediamo i nostri territori i nostri servizi e tra dieci anni tra quindici anni tra vent'anni è un percorso i cantieri ci saranno anche altri progetti. Sì sì i progetti allora i progetti in cantiere sono tantissimi stiamo ultimando la realizzazione del lungomare che era un'opera veramente desiderata da tantissimo tempo ed è stata praticamente ultimata nel 90% rimane solo da definire la parte finale abbiamo installato un impianto elevatore proprio per eliminare le barriere architettoniche che stanno lavorando a questo blocco ascensore finale e speriamo insomma da qui alla fine dell'estate di vederlo ultimato nella sua interessa quindi questa è stata un'opera veramente importante che a livello economico è equiparata a circa 3 milioni di euro quindi uno di quegli investimenti grossi. Andremo a mettere mani all'interno della nostra progettazione in quello che sarà una valorizzazione del nostro territorio. Io quando mi hanno chiesto spesso mi sono messa veramente in discussione anche durante il confronto con i cittadini di prendere quelle che erano le loro considerazioni e farne dei ragionamenti quindi non soltanto le nostre linee programmatiche ovviamente ci saranno ci guideranno durante questo mandato 2024-2029 ma mi reputo, mi ritengo comunque molto razionale quindi cerco sempre di capire nel confronto delle persone quali sono insomma le esigenze. In questo caso in particolare durante tutti questi anni di lavoro quello che è stata la piena consapevolezza che ho preso del nostro territorio perché stiamo parlando insomma di quello in questi momenti e riguarda il fatto che noi siamo meravigliosi così come siamo. No Gabi c'è questa particolare peculiarità di questo territorio molto caratterizzato dal mare ovviamente perché abbiamo tutta la storicità del turismo balneare ma abbiamo il nostro parco del San Bartolo che è quell'aria, quello è il nostro polmone veramente verde che ci dà la possibilità di realizzare oggi un turismo totalmente diverso, andare a focalizzarci e a puntare su dei cluster nuovi di turismo che storicamente magari... Ecco sul turismo infatti era una delle domande ovviamente che cosa, qual è l'obiettivo da qui in avanti e quali insomma quali turisti volete intercettare? Allora quello che è la nostra, la nostra idea innanzitutto è di fare dei progetti concreti di condivisione con i nostri operatori turistici. Io in questi ultimi dieci anni ho guidato comunque l'assessorato al turismo e volutamente nella distribuzione delle deleghe in questo mandato ho voluto invece darlo al più giovane della squadra perché credo che sia veramente necessario che in materia turistica si giuste ovviamente le considerazioni di chi ha fatto la storia, di chi conosce quelle che sono le tipologie dell'accoglienza, però servono veramente delle menti giovani, giovani comunque nuove, fresche e che abbiano tanto da dare. Serve un po' una rivoluzione in ambito turistico ma non a gabizio. In realtà ovunque i territori e i comuni devono essere sempre pronti ad adeguarsi con un motore che deve andare sempre in modo accelerato. Quindi abbiamo assolutamente necessità di fare degli importanti investimenti di promozione. Quello che noi vorremmo cercare di fare in questi anni è riportare a Gabizio quello che è sicuramente il turismo estero, quindi punteremo su quello perché per fortuna i fedelissimi di Gabizio e Mare ci sono. Noi abbiamo istituito anche già da tempo questo riconoscimento che si chiama Gabicino, che diamo alle persone che vengono a Gabizio da più di 25-30 anni e facciamo la fila tutte le settimane per andare proprio a consegnare perché ci tengono solo le persone che noi incontriamo per strada e che loro magari fanno altre vacanze durante l'anno ma la tappa a Gabizio è doverosa. Lascia qualcosa di speciale al turista nel cuore proprio perché è un territorio diverso, diverso per natura, l'abbiamo sempre detto quando tu arrivi a Gabizio qualcuno pensa di arrivare, chi arriva per la prima volta a Gabizio pensa di arrivare nella riviera così come conosciamo Rimini, Cattolica e tutte quelle che sono le località di mare e poi se si ferma invece si rende conto di essere un luogo unico, un luogo che ha un prestigio diverso in un luogo in cui comunque c'è ancora un turista che cerca un po' la tranquillità ma allo stesso tempo il divertimento, gli spazi sono diversi cioè veramente è un clima differente da quello che potrebbe essere l'idea di una vacanza in riviera e a proposito di questo insomma c'è un patto anche con Pesaro per il San Bartolo la valorizzazione insomma dei due territori confini noi abbiamo fatto già da diversi anni, avevamo istituito questo protocollo di intesa con il comune di Pesaro e il comune di Gradara creando la riviera del San Bartolo e dietro a questo stiamo cercando di valorizzare sempre di più ovviamente quelle che sono le idee per rendere operative, perché di idee e di progetti possiamo averne tantissime ma poi quello che fa il cambio di passo è rendere operativo il meccanismo di vivere poi i territori in questi giorni, già dai primi giorni dell'estate, andrà avanti fino al 20 settembre e attiva una navetta turistica che percorre Dagabice Mare, tutto il San Bartolo facendo ovviamente poi tutte le tappe, Vallugola, Fioenzuola, nei nostri luoghi di interesse principali fino ad arrivare al centro di Pesaro, poi quest'anno capitale della cultura per dare la possibilità di vivere questi nostri territori anche in una maniera green, sostenibile quindi un'attenzione sempre diversa verso anche il nostro rispetto, il rispetto dei valori ambientali e un servizio gratuito, quindi quando le persone arrivano dicono ma siete sicuri che non dobbiamo pagare? No, grazie ovviamente a questo contributo che abbiamo ottenuto e con un bando regionale, insieme in collaborazione di due comuni e la collaborazione del Parco del San Bartolo siamo riusciti a garantire questo servizio questo servizio è un servizio importantissimo, abbiamo fatto qualche giorno fa una conferenza stampa con Andrea Biancani, il sindaco di Pesaro, abbiamo visto che più di 200, tra le 200 e le 300 persone tutti i giorni arrivano, si spostano utilizzando questo mezzo quindi se la andiamo a moltiplicare, questo numero di visitatori che utilizzano quindi un trasporto sostenibile questa navetta elettrica, comunque un nuovo modo di vivere i nostri territori quindi quello che noi vorremmo sicuramente fare è partire da quello che è il nostro status attuale e valorizzarlo, quindi valorizzare dei nuovi progetti sul Parco del San Bartolo valorizzare il nostro borgo di Gabicemonte che dall'anno scorso è stato riconosciuto tra i borghi storici quindi abbiamo attivato tutta la parte di documentazione per essere dichiarati borgo storico quindi fare questo importante lavoro per far sì che alla fine noi riusciremo a vendere sul mercato una località che abbia tutti quei requisiti che vengono ricercati, vengono attenzionati in particolare dal turismo estero, sappiamo che per esempio la bandiera blu è uno di questi fattori io sono rimasta stupita quando ho parlato con un gruppo, con un tour operator che loro mi hanno proprio specificatamente precisato che scelgono la destinazione anche in base alla bandiera blu quindi per noi magari può essere un vessillo che va a sventolare sulle nostre spiagge invece ha un riconoscimento ancora di più dal turismo straniero e viene apprezzato quindi lavorare per valorizzare tutto il nostro territorio E come infrastrutture sia per gli imprenditori sia anche proprio viarie per chi deve arrivare cioè ci sono a parte la navetta o che cosa serve, che cosa chiedete? Allora noi in questo momento andremo sicuramente a lavorare per implementare poi se si riuscirà con la collaborazione del pubblico e degli altri enti, ovviamente promotori altrimenti lo faremo patrocinando e collaborando con i privati quindi andremo a cercare di valorizzare, di incentivare quelli che sono i trasporti tra le reti di collegamento, di connessione con gli aeroporti quello di Ancona sicuramente ma è ancora di più quello di Rimini che per noi è veramente molto più vicino basta dire che in 15-20 minuti uno riesce a arrivare al mare da qualsiasi località quindi questo sicuramente per quanto riguarda la zona di Gabice l'obiettivo sarebbe quello di arrivare ad avere una zona di arrivo proprio sulla destinazione da dove poter poi mi viene a dire smistare ma non è molto corretto comunque indirizzare i turisti attraverso poi l'utilizzo di navette attraverso i trasporti comunque organizzati per far sì che Gabice negli anni possa diventare una delle prime località car free della riviera proprio per avere questa idea differente di turismo e di valorizzazione di quelli che sono poi rispetto a tutti i criteri ambientali dietro a questa cosa mi ricollego a degli importanti progetti che dovranno assolutamente essere messi in campo in tema turistico ma anche di valorizzazione commerciale perché noi abbiamo un centro città molto piccolo Gabice comunque è piccolina e andremo a fare come amministrazione per dare comunque una mano speriamo anche all'assetto privatistico un importante intervento di valorizzazione di tutto il centro quindi abbiamo una piazzettina centrale che è Piazza Matteotti che andremo a rifare già dalla fine dell'anno con il nuovo asse che via Cesare Battisti che si ricollega poi dopo al nostro comune alla piazza Municipio che è già stata insomma riqualificata in questi anni quindi andremo a fare degli importanti investimenti per rendere sempre di più attrattivo ovviamente il nostro centro che già grazie al progetto del lungomare è stato altamente insomma riqualificato è partito come una scommessa i primi giorni quando ancora era in fase di cantiere anche i primi turisti ah ma cosa hanno fatto di qua di là oggi invece non ho ancora incontrato anzi se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire sul lungomare venga insomma sempre con piacere anche a riferire le critiche perché per me saranno comunque oggetto di sfida e di stimolo per cercare di fare meglio avevamo quindi proprio veramente oggi che è fatto, sistemato, ultimato con tutti questi arredi fatti in legno questi particolari arredi di illuminazione fatti a ombrello che possono quindi allo stesso tempo al contempo riparare anche e dare l'ombra il verde che è stato rinserito perché erano presenti circa una quarantina di alberi in precedenza e oggi nelle varie pentumazioni insomma si è arrivato al posizionamento di circa 120 tra arbusti, piante, alberi e tutta la categoria quindi in questo momento è un importante spazio che è stato riqualificato e che viene vissuto quindi non vedevamo tante persone sul nostro lungomare da non si sa quanto tempo sicuramente sono queste le sfide che ci piacerebbe portare avanti è un territorio di confine diceva anche lei insomma che l'aeroporto è più vicino a quello di Rimini quindi sostanzialmente le chiedo che rapporto c'è con la regione Marche come ente e che cosa chiedete alla regione e quali sono un po' le sfide da cogliere proprio perché siete un territorio di confine? Allora sicuramente alla regione Marche abbiamo sempre chiesto tanto e grazie forse anche al fatto che siamo molto alla nostra capacità la nostra capacità abbiamo anche sempre quasi sempre ottenuto perché poi quando gli amministratori insomma lavorano seriamente sanno fare i progetti si riescono a portare a casa i risultati quindi io non posso insomma che apprezzare quello che è stata la collaborazione avuta in questi anni che mi auguro che ci sarà ancora di più e in futuro con la regione Marche sicuramente un argomento che però dovremo attenzionare che avrà un ruolo principale e quello che riguarda la salute perché senza di quella non possiamo assolutamente fare nessun altro tipo di ragionamento quindi la mia la mia intenzione è quella di di lavorare e già in campagna elettorale abbiamo avviato dei tavoli di confronto con la regione Emilia Romagna per quello che riguarderà ovviamente la possibilità di utilizzare questo bacino territoriale che riguarda Gabice Gradara Tavuglia magari perché sono i tre comuni di confine della nostra zona con Cattolica con San Giovanni proprio per creare un bacino di servizi al cittadino in materia ovviamente socio-sanitaria che dovranno dare quelle risposte essenziali così come la possibilità di attivare degli accordi anche interrazionali per raggiungere gli ospedali più vicini noi avevamo fatto delle prove che poi basta chiedere ai soccorritori chi ci lavora sul campo di quelle che sono le tempistiche per raggiungere comunque l'ospedale di Pesaro che è il nostro primo ospedale poi dopo dipende ovviamente dalla dinamica dal caso specifico e i tempi comunque non sono quelli adeguati durante il periodo estivo la regione comunque collabora da diverso tempo perché capisce anche l'importanza di avere il territorio di Gabice Mare che durante il periodo invernale di base vive di circa 5.600 5.700 abitanti fino all'apice che può avere durante il mese di agosto di 30.000 presenze quotidiane quindi dietro a questa necessità abbiamo ottenuto in questi anni grazie ovviamente sempre alla collaborazione della regione la possibilità di avere un'ambulanza fissa su Gabice Mare che va notevolmente a ridurre quelli che sono poi i tempi per gli spostamenti però avere la possibilità in base poi a quella che è la casistica di utilizzare anche gli altri ospedali del territorio perché poi quando parliamo di territorio dovremmo parlare veramente dell'area cioè noi io quando mi mi chiedono cosa hai da dire al tuo territorio mi fermo e dico devo parlare del mio confine il mio territorio comunale basta perché il mio territorio è un territorio veramente più vasto io sicuramente Pesaro perché è la nostra città di riferimento ma Gradara Tavuglia Cattolica San Giovanni cioè i miei cittadini fino a Rizzone si spostano vanno nelle scuole di Rizzone vanno nelle scuole di Rimini noi gabicesi tantissimi vanno a scuola a Rimini come vengono sicuramente a Pesaro però è un territorio veramente di confine che viene anche vissuto come territorio unico delle volte facciamo anche fatica a spiegare anche ai turisti che c'è questo canale che divide i due comuni le due province le due regioni quindi è un territorio che va sicuramente vissuto e valorizzato in tutto il suo ambito complessivo e sul sociale ovviamente le difficoltà a livello nazionale ma anche locale insomma l'inflazione altri temi che riguardano appunto il tema delle disabilità eccetera cosa vorrete fare e quali saranno le risposte ai cittadini il sociale è stato uno invece di quelle deleghe che mi sono voluta proprio tenere per me perché ci avevo lavorato durante gli ultimi cinque anni così come il rapporto ovviamente con il comitato dei sindaci che sappiamo che sviluppa tutti i progetti sociosanitari del territorio li ho proprio voluti tenere in capo al sindaco non perché non avessi la possibilità di conferire alla mia giunta ai miei assessori alla mia squadra insomma alla delega ma volutamente perché credo che insomma a Gabiz sia stato fatto negli anni un importante lavoro di attenzione noi abbiamo una rete di associazioni sul territorio che collaborano a stretto giro con il comune sono un po' il nostro braccio operativo abbiamo che ci invidiano tutti a livello provinciale un'associazione Hauser che fa progetti di trasporto per gli anziani progetto di trasporto per i disabili e sono una squadra di una trentina di volontari con più di 300 iscritti all'associazione che in un comune di pari dimensioni è difficile trovare abbiamo un'importante collaborazione con la Caritas proprio di Gabizio Mare quindi aiutiamo puntualmente con degli accordi che facciamo una volta ogni due settimane tutte le nostre famiglie in difficoltà che hanno bisogno abbiamo la fortuna di avere una collaborazione con la Croce Rossa anche qui per la distribuzione dei pacchi alimentari e abbiamo l'ulteriore fortuna di essere comunque un territorio abbastanza sano che dove anche i cittadini o le associazioni adesso cito tra le tante non so l'associazione Lions di Gabizio Mare che puntualmente donano al comune capito diverse buone spese proprio per far sì che a Gabizio Mare il cittadino in difficoltà possa essere accompagnato attraverso dei progetti di reinserimento noi questo abbiamo fatto negli anni ci siamo presi carico ovviamente tutte le persone che avevano bisogno e le abbiamo reinserite abbiamo fatto su di loro dei progetti ad hoc quindi non parliamo di una di un'assistenza soltanto in termini di sussistenza non diamo soltanto la parte dei sussidi ma facciamo seguiamo le persone che hanno bisogno sia con la sfera nell'abito psicologico di supporto quindi di reinserimento dentro le famiglie di comprensione delle problematiche di aiuto di reinserimento nel mondo del lavoro quindi abbiamo fatto anche siamo stati uno dei primi comuni a attivare i PUC quando erano stati attivati i PUC quindi è un sistema che a livello sociale funziona bene è un sistema diretto importante bravo e l'altra cosa che abbiamo già fatto alla fine dell'ultimo mandato ma che verrà quindi sperimentato alla prima occasione utile è avere attivato i nostri progetti di amministrazione condivisa in ambito di welfare socio-sanitario proprio per far sì che tutte le tematiche tutti i cittadini che avranno delle esigenze specifiche da rappresentare al comune saranno doverosamente ascoltati ma questo penso che sia ovvio ma su quei progetti creare poi dei progetti ad hoc per capire se il problema di uno potrebbe essere il problema di tanti e andare a lavorare su dei progetti di prevenzione per capire e studiare e far vivere ai nostri cittadini sempre meglio allora siamo in chiusura un'ultima domanda lei ha detto insomma che gli amministratori hanno il compito di guardare avanti quindi fra cinque anni dove vede Gabicce in sintesi questa è una domanda perché io ovviamente la visione la visione ce l'ho poi me la sono fatta e mi auguro visto che avremo davanti cinque anni insomma di riuscire a portare a casa tanti di questi progetti dicevo prima che vedo oggi vedo Gabicce se guardo il mio territorio con non oggi scusate tra cinque anni vedo Gabicce come un territorio sicuro un territorio accogliente un territorio dove saranno dove verranno fatti in questi anni comunque dei progetti importanti di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo che tutti i cittadini insomma potranno poter godere del loro territorio con con serenità dove vedo tanti turisti perché avremo un centro turistico totalmente nuovo grazie anche a tutti i progetti che andremo a realizzare in questi anni quindi un nuovo bello accogliente sperando che la bellezza possa continuare a richiamare bellezza e che anche gli stessi privati poi abbiano voglia di fare degli importanti investimenti sulle loro proprietà noi abbiamo nella zona del centro nel centro città circa 70-80 alberghi attivi capito qualcuno è più nuovo qualcuno è meno nuovo speriamo che dal momento in cui l'amministrazione darà questa importante spazio questa importante apertura verso il nuovo si possa portare dietro anche la voglia del privato di riqualificare di investire sicuramente è una una città ancora più sostenibile noi siamo già all'interno della rete dei comuni sostenibili e mi sono presa ovviamente l'impegno di continuare a mantenere ovviamente l'interesse e soprattutto di lavorare su quelli che sono tutti i temi principali dell'agenda 20 e 30 e tenerli come spunti di riflessione per arrivare alla al completamento di tutte quelle azioni verso un turismo nuovo più sostenibile più apportato a quelli che sono rispetto dei valori ambientali e con tante persone che hanno voglia di scegliere Gabice come una destinazione turistica e Gabice come città per vivere bene allora grazie a tutte le spettatrici e telespettatori di Rossini TV grazie a Marilla Gironomoni sindaca di Gabice Mare buonasera a tutti e buon proseguimento con i programmi di Rossini TV grazie buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti